Una provocazione per riflettere e tenere alto il senso civico ed il rispetto per gli altri. Questa mattina Capodorlando si è svegliata con dei nuovi insoliti cartelli e fissi nei posti riservati a disabili. Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap Capodorlando è un paese civile. L'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale mira a sensibilizzare i cittadini a non violare i diritti dei più deboli e a demotivare tutti i trasgressori che giornalmente occupano abusivamente i parcheggi riservati a disabili. Noi esortiamo i cittadini a rispettare le regole sempre ma riteniamo che ancora più lo si debba fare quando non farlo determina un disagio a chi è già stato sfortunato o comunque limitato dalle circostanze della vita. La frase è forse un pugno in pancia ma l'obiettivo è proprio quello di colpire e non colpire con gli oltre 260 verbali che determinano anche la detrazione di due punti che nel 2012 la Polizia Municipale ha fatto a chi occupa i posti disabili ma l'obiettivo è di far sì che ci sia la coscienza che non è giusto farlo, che non si debba farlo. A stagione estiva già iniziata Capodorlando propone un nuovo look con la realizzazione dell'ultimo tratto del lungomare. Tante novità e sorprese per la stagione più importante sotto il profilo economico della città. Fra qualche giorno dopo aver asfaltato un ulteriore tratto del lungomare ultimeremo l'illuminazione lato mare del lungomare Ligabue verranno cioè illuminate le palme che escono in spiaggia. Il nuovo tratto è stato aperto, l'obiettivo è quello di proseguire con questo tipo di intervento già nel corso dell'inverno del 2013 e penso che le frecce tricolore saranno il gong per l'inizio di una stagione che nonostante la crisi, le difficoltà, la depressione, le cose che si dicono a Capodorlando continuerà ad essere un'estate alla grande. Annunceremo a giorni anche qualche altra importante novità realizzata per far divertire la gente, per far vivere il paese, per dare opportunità ai commercianti ma senza perdere d'occhio che ora più che mai le spese devono essere calibrate e contenute.